Il primo a parlarmi del denaro come una forma di energia e di scambio fu un maestro di yoga in India e da lì da queste sue parole è nata per la prima volta la mia curiosità per questo argomento. Poi in realtà anni dopo quando ho deciso di lasciare il mio lavoro da dipendente in Italia e poi ho deciso anche di trasferirmi all'estero, ecco è nata in quel momento non soltanto la curiosità ma anche la necessità di capire e studiare non soltanto come farà meglio il mio lavoro ma anche tutti quegli aspetti finanziari ad essi connessi e anche come costruire una solida base per sentirmi economicamente libera. Ecco e nel studiarlo mi sono accorta che non è sempre facile costruire ed avere una sana relazione con il denaro. Io ad esempio in primis non l'avevo e per questo oggi partiremo proprio da questa base e parleremo della sana indipendenza finanziaria come raggiungerla e anche come riconoscerla. Ecco forse se mi conosci già sai che su questo canale parleremo del denaro in una maniera un po' diversa magari dal solito. Credo che infatti le competenze anche le esperienze che facciamo nella vita non vadano a compartimenti stagni ma ogni cosa che facciamo ogni esperienza che viviamo può esserci sicuramente anzi ci è sicuramente utile per guardare da un'altra prospettiva cose che magari apparentemente non c'entrano nulla. Quindi ecco perché la mia passione per le discipline umanistiche e quegli aspetti diciamo magari più sottili ecco della vita e della realtà mi fanno vedere con una prospettiva chiamiamola un po' diversa ecco il denaro. E non voglio dire che il mio punto di vista sia migliore o peggiore di altri però voglio condividere con te il fatto che per me ha funzionato e sta funzionando ed è per questo che te lo porto perché magari chissà potrebbe essere utile anche a te. Ecco su questo canale non parliamo di denaro perché il denaro è quello strumento che ci può aiutare a comprare magari la macchina super costosa o per postare sui social le foto della ultima splendida vacanza in barca. Ma l'intenzione di questi video è proprio quella di costruire una sana indipendenza economica anche perché se approcci il denaro così sarà proprio come un cane che si morde la coda non riuscirai mai a raggiungere quello che vuoi perché sposterai sempre un po' più avanti l'asticella. E in questo rapporto con il denaro io in realtà di sano ci vedo ben poco perché per quanto denaro tu possa avere in realtà non ti basterà mai. Ecco quante volte c'è stato detto o magari abbiamo sentito dire la frase i soldi non fanno la felicità e quindi non so tu ma almeno io avevo anche sviluppato ad un certo punto della mia vita chiamiamolo una sorta di sì una sorta di distacco dal denaro perché la vedevo come una cosa addirittura brutta che soltanto le persone materialistiche inseguivano e che in realtà non serviva assolutamente per avere una vita piena e una vita felice. Ma questa come tante altre frasi tipo siamo tutti uguali siamo una cosa sola tutto amore potremmo vederli come dei diamanti perché proprio come dei diamanti secondo me sono delle frasi davvero preziosissime però come i diamanti hanno anche tante facce e per avere la percezione completa del diamante bisogna guardarlo nella sua interezza e la stessa cosa bisogna fare secondo me con queste frasi perché se si leggono soltanto da un'angolazione ecco non si riesce a cogliere l'interezza del loro messaggio e quindi anche delle frasi dette magari con un buono scopo possono portare ad abbracciare magari un concetto in realtà molto diverso. Ora non voglio comunque uscire dal tema del nostro video di oggi quindi concentriamoci soltanto sulla frase i soldi non fanno la felicità. Goenka il padre della meditazione vipassima diceva la cosiddetta felicità di cui uno fa esperienza attraverso il denaro il potere la secondaria ai piaceri sensoriali non è la vera felicità è molto fragile instabile ed effimera. Per la vera felicità per una stabile e duratura felicità uno deve fare un viaggio profondo all'interno di sé stesso e liberarsi di tutta l'infelicità accumulata ai livelli più profondi della mente. Fin quando c'è sofferenza nella profondità della mente tutti gli sforzi fatti per essere felici al livello superficiale della mente si dimostrano futili. Ecco e perché ti riporto le sue parole perché rimanendo comunque sempre nel nostro tema del video di oggi ci aiutano a capire che quello che noi siamo soliti chiamare felicità è un'emozione e quindi come tale non è duratura cioè adesso c'è perché magari adesso mi sono comprato la macchina dei miei sogni ma quando magari arrivo a casa e la mostro ad esempio a mia moglie che mi dice che il colore non le piace magari anche il modello non le piace ecco in quel momento magari anche senza accorgermene la felicità svanisce e al suo posto arriva magari la tristezza la diluzione o può arrivare anche la rabbia. Quindi possiamo dire che da un certo livello in su dal piano mentale in su come dice Goenka i soldi non hanno alcun valore ma nel piano materiale invece secondo me la situazione cambia molto. I soldi infatti infatti non fanno la felicità nel piano mentale ma fanno invece la libertà nel mondo materiale. Libertà di scegliere che lavoro fare, libertà di scegliere cosa mangiare, come vestire, dove vivere, insomma di vivere esattamente come vuoi. E quindi appurato che i soldi fanno invece la libertà nel mondo materiale dobbiamo capire quanti soldi ci servono e dobbiamo stare però attenti a non farci ingannare però dalle cose del mondo perché per sentirsi liberi non c'è realtà una soglia minima da dover avere. Quindi devi semplicemente guardarti dentro e con onestà chiederti ad esempio che stile di vita vuoi avere. Vuoi lavorare magari da dipendente o da libero professionista? Qual è magari anche il tuo scopo nella vita? Che cosa vuoi fare? E oggi più che mai anche nella società in cui viviamo con quale cifra ad esempio ti sentiresti libero di prendere qualsiasi decisione tu voglia senza timore magari di non farcela o di non arrivarci? E quindi cerca proprio anche di capire e di mettere proprio giù per iscritto l'ammontare di denaro che a te serve per raggiungere e soddisfare il tuo chiamiamo lo standard di vita libera. Ecco e questo lo si fa anche senza fare confronti magari col vicino di casa o con il fratello perché se no sicuramente il nostro ego ci porta veramente a puntare il più in alto di tutti. Ma non dobbiamo neanche cadere nell'eccesso opposto quindi neanche magari annullarci completamente e vivere magari come dei francescani quando in realtà questa non è la nostra vera vocazione. E quindi non possiamo neanche denigrare completamente il denaro o far finta che non ci serva perché sì sul piano spirituale sul piano mentale abbiamo visto che non ci serve per niente ma noi stiamo vivendo in questo mondo e su questo piano sul piano materiale i soldi ci servono e come. Quindi quanti soldi ti servono per raggiungere la tua libertà finanziaria? Allora come abbiamo detto non c'è un giusto o uno sbagliato non c'è un troppo o un troppo poco ma tutto dipende dalla tua intenzione e dalle tue reali e sincere esigenze. Quindi cerca proprio di capire e di scrivere qual è la cifra con cui tu ti sentiresti libero di scegliere qualsiasi cosa nella tua vita o quale cifra ti servirebbe per magari ripartire con un nuovo progetto di vita o magari con un nuovo progetto lavorativo. Sono magari 5000 euro? Ok. Sono 500.000 euro? Ok lo stesso perché la cifra la decidi tu e mettila poi per iscritto senza paura perché potrai sempre cambiarla in futuro. Non è un patto irrevocabile che stai facendo con qualcuno. Anzi io ti invito io lo faccio ad esempio ogni due mesi ricontrollo questa cifra e se il mio obiettivo è cambiato semplicemente lo cambio senza problemi. Ma scriverlo proprio l'atto di scrittura è importante perché è proprio il primo passo che possiamo fare per portare le cose dal mondo delle idee a questo piano della realtà. E poi solo una volta che avrai chiare quali sono le tue esigenze quindi qual è la tua meta solo allora direi che puoi partire per costruire la tua sana indipendenza finanziaria. Perché in realtà sai da dove parti, hai ben chiaro anche dove vuoi arrivare e perché soprattutto anche vuoi arrivare lì. Bene ti invito allora a prendere carta e penna e iniziare a scrivere così la tua cifra per raggiungere la tua libertà finanziaria. Io intanto ti saluto e come sempre se il video ti è stato utile ti chiedo di mettermi un mi piace e anche se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale.